Sabato scorso è stato nominato il nuovo presidente dell'Associazione Spirito Francescano, si tratta dell'archeologo Antonio Capano. Fino a circa un mese fa, a capo dell'Associazione c'era Germano Rizzo, ideatore e attivista dal 2013. L'Associazione ha promosso diverse iniziative negli anni sul territorio cilentano, ponendo al centro del suo impegno una vicenda ritenuta solamente una leggenda fino a qualche anno fa, la presenza di San Francesco nella città di Agropoli. La nuova presidenza porterà l'impronta di Germano Rizzo, ricordando la sua costanza e perseveranza per tutto ciò in cui credeva fortemente. L'Associazione, ha dichiarato l'attuale presidente Antonio Capano, proseguirà la sua attività sulla linea già pienamente condivisa da Germano Rizzo, con cui mi sono impegnato in numerose iniziative e come responsabile culturale. Ci attende per il prossimo 2022 l'importante celebrazione della consolidata tradizione relativa alla presenza di San Francesco ad Agropoli nel lunedì in Albis del 1222 e ci impegneremo al massimo anche nel ricordo di Germano, chiedendo come al solito il sostegno e la collaborazione delle autorità civili e religiose e dei mezzi di informazione e di comunicazione. Ogni volta che scegliamo di portare avanti le iniziative intraprese e da chi non c'è più, cerchiamo di guardare al futuro con maggiore impegno. In questo caso verrà ricordato un promotore irrefrenabile di tante manifestazioni, ma soprattutto un uomo contraddistinto da una forte passione che ha lasciato un'eredità fatta d'amore e legame per il proprio paese.